Siamo un'azienda nata nel 1978, produciamo articoli qualitativamente ed esclusivamente italiani, si pone in una fascia medio fine e quindi con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Produciamo cinture esclusivamente in pelle, cuoio, pellami di prima qualità. La nostra azienda è in continuo aggiornamento e qualsiasi novità esca sul mercato con pellami nuovi siamo pronti ad accoglierli e a metterli in produzione con le nostre cinture.